Trentesima di campionato per il Gironi D con il super derby tra Este e Abano con i giallorossi che era andata, si posero 1-0 allo stadio delle terme grazie al super gol nel finale di Alberto Rubbo, oggi tra gli assenti insieme ad Emiliano Bonazzoli. Parte meglio l'Este che già al primo minuto reclama un rigore per questa uscita scomposta di Rossi su Coraini, ma V Mercati di Cosenza lascia proseguire. Al terzo Rondon direttamente da caccia d'angolo, incrocio pieno, la palla torna in campo, Meneghello tappa in sulla propria strada, trova un difensore che la respinge sulla linea. Al venticinquesimo ancora Rondon ci prova su punizione, Morossi è attento e respinge alla sua sinistra. Poi Beghetto, ovvero il suo secondo palo Lely, la zucata in mezzo per Coraini che tira esattamente tra le braccia del portiere. Nel secondo tempo per vedere il primo tiro in porta bisogna aspettare il settantesimo da Baccarina di impegnare così Lorello su punizione. Poi Rondon direttamente da caccia d'angolo, ancora cerca la porta, la palla viene rimessa in mezzo da Tessari, Meneghello tutto solo, pensa di essere in fuorigioco e manca l'aggancio del possibile vantaggio. Rondon ancora spunizione, duello con Rossi, portiere dell'Abono smanaccia. Poi Lely tutto solo da caccia d'angolo, alta sopra la traversa, l'occasione migliore arriva l'89 quando Mario entra in area. Dopo un'azione personale diagonale, il suo secondo palo, palla fuori di pochissimo, Este Abano 0-0, il derby lo vince la noia. Mister, una partita ostica dal punto di vista tattico, preparata egregiamente da entrambe le squadre. Lei quando gioca contro Mister De Mozzi, forse perché lo conosce molto bene, è una partita sempre quasi a scacchi. Ma sì, è stata una partita equilibrata. Si poteva immaginare che non era una partita bellissima. Dovevamo essere più bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto sia nel primo tempo che soprattutto nel secondo tempo, gli ultimi quarto d'ora. Però devo fare i complimenti ai ragazzi perché mi ha fatto una partita con grande intensità e è mancato probabilmente solo il gol. Poi è normale che quando capitano situazioni come nel primo tempo, dopo un minuto e dopo è invertito il fallo di Favaro, rigore che poteva starci, sono situazioni importanti e ti posso cambiare la partita. In una partita del genere gli episodi come quelli contano tantissimo. Contano tanto, anche perché nel calcio moderno si sbloccano soprattutto su palli inattive e per come le avevamo avute potevano cambiare la partita. Nell'ultimo quarto d'ora è mancato veramente solo il guizzo finale? Sì, ci abbiamo creduto, siamo stati bravi e è mancato anche un pizzico di fortuna, però la cosa importante è che la seconda partita non subiamo gol e quindi bisogna continuare su questa strada. Poi il gol ritorna da quello sì. Parliamo dell'infermeria, come stanno Alberto Rubbo ed Emiliano Buonazzoli? Emiliano ha cominciato a correre questa settimana, adesso con calma cercheremo di recuperarlo, anche perché è un giocatore per noi importante per esperienza, per carisma, per qualità del giocatore. Alberto deve ancora ricominciare a ricorrere, vedremo la prossima settimana, speriamo di recuperarlo, anche perché si parla di due giocatori di un certo spessore. Allora mister, tanti errori da una parte e anche dall'altra e per larghi tratti avete impedito all'estero di giocare come voleva. Adesso io non so come gioca l'estero, abbiamo giocato all'andata e ritorno e le partite sono state simili, sia l'andata che ritorno, dove all'andata un episodio all'ottantasettesimo ha portato la vittoria loro, stava per succedere a fine con Mario, però secondo me era un po' condizionata anche dal vento, perché non è facile, quando c'è il vento non è mai facile giocare, giocare poi tutte e due le squadre, l'estero oggi ha portato una squadra molto organizzata in campo, loro anche e noi anche, e quando tutte e due le squadre sono molto organizzate, sbagliano poco a livello tattico, quasi niente, solo un rimpallo, un episodio, una palla in attiva magari può rompere gli equilibri, però noi abbiamo provato, abbiamo avuto due episodi importanti su una buona azione impostata bene e per un pelo de Cesare gli è rimasta la palla dietro, se no era davanti al portiere, per cui a livello delle azioni abbiamo qualcosa creato e stiamo sempre parlando che noi oggi abbiamo giocato con la terza in classifica, fuori casa. Gli ultimi dieci minuti eravate forse un po' sulle gambe o forse l'est è aumentato semplicemente un po' la pressione offensiva? No, no, secondo me è stato un momento dove noi quando succede che si mette le cose sulla confusione facciamo fatica perché l'est è fisicamente più forte di noi, perché ha più fisicità e allora per quello conquistavamo un po' più palloni, dovevamo noi invece, noi dovevamo metterla sul tenere palla, sulla tecnica invece abbiamo forzato qualche giocata in più e quando la forzi e la perdi, poi in seguire, riprendela, può risultare difficile ecco, quei dieci minuti fatti io dico di stare calmo, di tenere palla, di fare giocate un po' più semplici ecco tutto lì. Che cosa ha Labona ancora da chiedere a questo campionato? La salvezza ormai è in cassaforte, possiamo dire, il sogno playoff? Beh sì, la salvezza è quasi, vediamo cosa succede domani, se domani le Castelfranco, che è quella attualmente quindicesima gioca a Imola, dovesse perdere, noi andiamo sopra di 11 punti, per cui a otto giornate alla fine, insomma se poi siamo quelli di oggi nella squadra tosta, non dovrebbero esserci problemi, però bisogna sempre, finché non c'è la matematica bisogna sempre stare allerta. È vero che secondo me Labona ora è lì, perché non provare a sperare, tanto nel nostro giorno è la sesta entrare nei tuoi playoff. Fare anche una partita, tra noi sarebbe già un successo, fare un primo anno di eccedenza il primo obiettivo era, scusa, di Serie D, il primo obiettivo era salvarsi, raggiungerlo magari così presto e poi magari riuscire anche ad ottenere i playoff, sarebbe un bel successo. Teniamo conto anche che Labona è secondo dietro a Rimini nella valorizzazione dei giovani, noi siamo secondi in classifica nella valorizzazione dei giovani, cioè vuol dire che i giovani che vanno in campo ad Abano sono del settore giovanile dell'Abaro e anche questa, ottenere tutte queste cose è un risultato importante. Bagatini-Marotti, allora una partita contro una squadra veramente tosta, è sempre difficile giocare contro l'Abaro, anche l'andata avete fatto fatica e avete vinto con una giocata individuale. Sì, noi sappiamo che loro erano una squadra forte, anche il mister prima di partita ha detto per primo difendere, dopo andare al tac, anche per me abbiamo fatto una gran partita, non abbiamo preso gol, anche tante opportunità di gol calcio è così, se tu non fai più o meno rimane 0-0 va bene. Se non lo prendi di sicuro non perdi almeno. Sì, giusto, così. Ascolta, come ti trovi come nuova posizione di terzino-sinistro? Tu sei nato difensore centrale, hai giocato difensore fino a qualche partita fa. Sì, in Brasile, la squadra che io giocavo l'anno scorso, giocavo di terzino, è venuto qua, visto qualcosa in me del centrale, penso che ho fatto bene, adesso devo mi adaptare, ha fatto due partite, prima io penso in difendere, dopo se ha qualche opportunità vado ad attacco, ma sto mi adaptando adesso. E tu personalmente preferisci giocare centrale o terzino? Io sempre dico, io personalmente preferisco giocare di terzino, che è la mia posizione di origine, però se mister mi dice giocare di centrale, centrocampo, terzino, tutto, fatto quello che mister dice, procuro fare bene. E come terzino, a chi ti ispiri? Che giocatore è? O Levas, della Roma, io sempre guardo la partita di lui, anche video YouTube, io sempre guardo lui per giocare un po' 10%, va bene.